Buona giornata e benvenuti. Siamo arrivati alla prima edizione di questo 2020 del Vallefoglia Magazine, l'appuntamento settimanale riguardanti le principali notizie e gli aggiornamenti del territorio di Vallefoglia. Partiamo subito dalle considerazioni di alcuni cittadini residenti a Montecchio che abbiamo sentito durante il mercato di Montecchio. Gli abbiamo chiesto se fossero soddisfatti dei servizi offerti dalla città di Vallefoglia e quali fossero le migliorie da portare per questo 2020. Si troviamo al mercato di Montecchio di Vallefoglia. Quest'oggi abbiamo intervistato alcuni cittadini, alcuni residenti qua del territorio che ci hanno detto la loro in merito alla qualità dei servizi offerti dalla città di Vallefoglia di questo 2019 e dai buoni propositi per questo 2020. Andiamo a sentire. E' una cosa molto importante pensare agli anziani, pensare ai servizi e all'aiuto alle famiglie. Vedere in qualche modo come si possono organizzare e, secondo me, far capire ai giovani l'importanza di questo servizio, che può essere un lavoro per loro, che può essere una spinta per tutti ad essere un po' più uniti, e anche capire gli anziani quanto hanno da dare per insegnare ai giovani. Questa cosa si sente poco. Nel 2020, a tal proposito, cosa consiglia all'amministrazione comunale? Consiglierei di puntare su questa, io che sono già grande, uno degli argomenti potrebbe essere questo, insomma, perché anche punti di ritrovo, punti dove si può anche divertire, perché siamo costretti, sono costretti, chi vuole uscire, chi vuole stare in compagnia, andare lontano, fare un'ora di viaggio magari, e rischiare anche perché sia. Quindi, secondo me, questo è uno dei punti importanti. Poi, le altre cose, sinceramente, vanno abbastanza bene, secondo me, la scuola, anche l'organizzazione del territorio. Adesso ci sono difficoltà, però, insomma, nel senso, piccole, le strade, come in tutti i paesi, però io penso che vada abbastanza bene. Signore, cosa pensa dei servizi che la città di Vallefoglia ha offerto in questo 2019? Quali sono, secondo lei, buoni propositi per questo 2020? Insomma, io è da poco che sono qua, un anno e mezzo, però vedo che le cose funzionano bene, in questi piccoli paesini che ci sono. Piccola pecca è che la sanità, che non va bene perché noi che siamo non residenti, che siamo di passaggio, non abbiamo la possibilità di avere una sanità corretta. Per me dico una cosa, dobbiamo andare per fare una visita, una cosa, allora ci viene un po' legata, oppure dobbiamo pagare. Ma poi del resto non è che è cattiva, i paesi sono puliti e poi Pesaro è bellissimo. Io sono da un anno e mezzo qua, non è che sono da tanto tempo, però sono felice di esserci. Per il 2020 ci auguriamo un miglioramento dei servizi di trasporto per permettere ai cittadini di Vallefoglia di arrivare più agevolmente al mercato e ci auguriamo comunque una politica migliore per il mercato perché si stanno svuotando tutte le postazioni visto il calo del lavoro e del commercio. Ci auguriamo che poi il Comune organizzi delle domeniche, delle giornate aggiuntive per invogliare i cittadini a raggiungerci qua nella nostra bella piazza. Diciamo che in generale Vallefoglia è riportato ad altri Comuni, se la cava abbastanza bene come Comune, il costo da migliorare ce ne sono ovunque. Naturalmente io parlando per il settore merceologico del mercato potrei dire che qui a Montecchia avremo bisogno di ancora più parcheggi ma comunque siamo già a un buon punto, Vallefoglia è avanti rispetto ad altri. Ecco dal punto di vista della viabilità? Ma io non ho mai riscontrato problematiche, Vallefoglia ripeto è un Comune che è abbastanza avanti rispetto ad altri, ci sono veramente altri che dovrebbero prendere esempio. Un presepe itinerante che rappresenta un unicum nel panorama nazionale. Betlemme Atalacchio si è concluso per la sua quarta edizione e noi abbiamo sentito a tal proposito una delle organizzatrici, Carla Nicolini, che ci ha ripercorso quali siano state le tappe principali di questo presepe. Vediamo. Una quarta edizione è quella del presepe itinerante qui nelle terre di Atalacchio che ha superato qualsiasi aspettativa. Ha superato ogni limite, siamo sinceramente orgogliosi di questa festa e di tutto l'evento che abbiamo creato di Betlemme Atalacchio. Ogni anno ci mettiamo l'impegno e l'impegno viene ripagato, avete visto quanta gente c'è stata, gli apprezzamenti che vengono non solo dalla parte della zona nostra, vengono anche da fuori, da varie regioni d'Italia. La giornata di oggi si è svolta in due tempi, il lato religioso con un bellissimo corteo, con i figuranti, tutte le persone di Atalacchio e delle tre comunità comunque vestite in abiti d'epoca. e hanno sfilato per il paese davanti il vescovo, come era giusto, c'era anche il sindaco, la presenza del sindaco, Don Ugo, e in chiesa è stata fatta una breve funzione per ricordare comunque sia che cosa è la festa dei Re Magi. La nostra è una festa molto molto religiosa, diciamo, e poi finita la funzione religiosa ci siamo dati a questa festa. La festa è stata la cosa più apprezzata forse da tanti, è stato offerto il cibo cucinato da noi, dolci, case, recci, la polenta invece è stata cucinata in loco, quindi si è rivisto anche come cucinare la polenta come il metodo di una volta, e il sugo preparato sempre dalla parrocchia. Abbiamo aggiunto anche una lotteria quest'anno per dare dei premi, anche perché la gente è felice poi di partecipare e avere sempre un premio, quindi abbiamo buttato al prosciutto, come sapete c'è già la tombola qua, noi leghiamo sempre gli eventi insieme e nient'altro. Adesso si sta ballando, ci stiamo divertendo, ci auguriamo che anche il prossimo anno venga una festa così gradita da tutti e sempre più persone vengano a far festa con noi a Atalacchio. Il sindaco di Vallefoglia, Palmirucchielli, ha riferito quali saranno i prossimi passi del comune di Vallefoglia per questo 2020. Tra le varie iniziative è stata confermata quello del primo Festival dell'Amore che si terrà in occasione di San Valentino alle 100 vetrine di Morciola di Vallefoglia. Sentiamo. Il 2020 è appena arrivato, quali sono i lavori in corso in questo territorio di Vallefoglia? Il lavoro del 2020 in verità non è mai terminato quello del 2019, c'è stata l'iniziativa di patinaggio al Paladio Nigi, il Bethlehem Atalac, tante iniziative. E poi diciamo la ripresa da oggi della Giunta e del prossimo Consiglio Comunale che si terrà verso la fine del mese per rifare il punto su tutte le questioni. Le grandi questioni sono, la più grossa sul tema dell'ambiente è quella della depurazione, dell'asta fluviale. Abbiamo consegnato il comune per l'appalto, quindi stanno procedendo la provincia per l'appalto del nuovo comune. Stanno consegnando a giorni il progetto del teatro. Sono iniziati i lavori della pista pedonale ciclabile Bottega Montecchio. Stanno iniziando i lavori del nuovo campo sportivo. Ho visto proprio stamattina i lavori quasi ultimati del Teatro Branca Sant'Angelo in Listola. Sono quasi ultimati, pronti per l'inaugurazione, sia il teatro che il morciola sporting che il gioco prevalentemente giocano le bocce. Adesso facciamo anche i corsi per i ragazzi delle scuole elementari per insegnare a ragazze e ragazzi il gioco delle bocce che è un gioco antico di queste terre perché quando giocavano a bocce nell'aia i contadini. Poi sono venuti impianti nuovi eccetera. Poi stiamo lavorando su iniziative culturali. La regione ha messo delle risorse per noi importanti sul museo Giulio Perticari a Sant'Angelo in Listola. E poi ha messo delle risorse per quel che riguarda la viabilità. I temi che sono importanti come la corale, i temi dei servizi sociali, insomma ci ha dato una bella mano con l'approvazione del bilancio a fine 2019. Quindi il 2020 parti con una serie di opere pubbliche già in corso. Quindi partiamo bene, partiamo veloci e partiamo con una situazione economica che si intreccia con quella privata che fa da Pandan e quindi con l'obiettivo, quello del 2020, di ritornare alla pienissima occupazione in maniera tale che non c'è bisogno nemmeno di una nuova immigrazione. Nel senso che tutti quelli che sono nati e cresciuti qua possono trovare il lavoro in loco perché se no sarebbe perfino un lavoro, un problema. Se non venissero dall'Italia e dal mondo, molte persone per tutti quelli locali non ci sarebbe nemmeno la possibilità. Cioè le aziende che cercano il lavoro non troverebbero delle persone. E quindi poi la formazione professionale al lavoro che è uno dei temi sui quali stiamo lavorando per dare una mano soprattutto ai giovani e come avevo detto alla vostra televisione stiamo lavorando per il 14, 15 e 16 per questo luogo che renderà protagonisti i giovani per il loro futuro perché sarà il festival, parafrasando con Milano, che fa la stessa cosa analoga, il festival dell'amore, del benessere, della bellezza e della felicità. Sindaco Ucchielli che ha toccato anche i punti salienti di lavori in corso per quanto riguarda l'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. L'Unione riprenderemo l'attività la prossima settimana con una giunta e un consiglio. Anche lì partiamo da bilancio approvato, da obiettivi strategici ben definiti. Stiamo ragionando con i comuni se e come e in quali settori per rafforzare l'Unione dei Comuni che come ricordo sempre la prima Unione delle Marche con 140.000 abitanti, 16.000 imprese. C'è una cosa come la prima città delle Marche abbastanza importante e interessante. I temi sono quelli delle infrastrutture, quelli della viabilità, del fiume, del contratto di fiume e sono quelli del lavoro. I temi del lavoro ripercorrono anche le strategie dell'Unione dei Comuni. Una nuova attività ha preso il via a Morciola di Vallefoglia a fine 2019. Si chiama Fly Technology e noi siamo stati in occasione dell'inaugurazione. Sentiamo i protagonisti. Siamo all'interno della Fly Technology qui a Morciola di Vallefoglia precisamente nel centro commerciale alle 100 vetrine. Oggi sabato 21 dicembre si terrà l'inaugurazione di una nuova realtà commerciale che faremo spiegare ai microfoni da Eva Nicotra. Ciao Alberto, ciao a tutti, buongiorno. Oggi inauguriamo appunto la nostra sala. Noi siamo un'azienda comunque sia che promuove il Made in Italy in tutta Italia e anche all'estero perché ci stiamo espandendo veramente molto molto velocemente, molto molto bene. E niente, noi appunto trattiamo cura e benessere, gusto e benessere soprattutto. Quindi abbiamo praticamente, diamo anche l'opportunità di lavoro a molte persone. Quindi noi qui nella stessa struttura facciamo proprio colloqui per cercare nuovi manager a dare informazioni alle persone proprio sul progetto di salute che al momento non è molto... Qui alla nostra sinistra poi vediamo anche una sala dove tenete corsi di formazione. Sì, facciamo proprio delle cliniche all'interno dell'azienda dove formiamo appunto i manager su tutti i nostri prodotti per dare poi informazioni agli altri. E in quanti siete a lavorare in questo dipartimento? Al momento abbiamo dieci manager operativi, come ti ho accennato prima, però siamo sempre alla ricerca quindi contiamo di aumentare appunto i consulenti. Invece qua abbiamo il sindaco di Vallefoglia, Palmirucchielli, che è presente all'inaugurazione di questa nuova realtà commerciale, una nuova realtà sindaco che è presente in questo territorio che si vuole far rinvigorire anche tramite il nuovo festival che si farà sul benessere. Ma innanzitutto un in bocca al lupo per l'attività, un centro del gusto, del benessere importante in un centro commerciale come quello di Cento Vetrine, che è in un posto anche strategico, proprio a metà strada trappeso Urbino e che certamente è partito dopo di altri centri commerciali, però è un centro commerciale molto importante, fatto bene, con diverse attività. l'obiettivo nostro è rilanciare questo centro, quindi inaugurare una nuova attività con delle ragazze e dei ragazzi che hanno il coraggio di fare impresa e di fare cose che fanno star bene le persone, per noi è un messaggio positivo che guarda con fiducia e con speranza al futuro, quindi siamo particolarmente contenti. la presenza mia qua è, diciamo, spero di buon auspicio per il futuro di questa attività e poi, come diceva Eva, anche creare opportunità di lavoro e di tranquillità, di serenità, di benessere è importante. A questo proposito, noi, ho già detto a questa televisione, che il 14, 15, 16 di febbraio otterremo proprio qui, a Morciola di Vallefoglia, un evento importante sul futuro di questo pianeta, cioè sull'amore, l'amore per la vita, diciamo, l'amore per il benessere, per la felicità, per il lavoro, per l'occupazione, per la crescita, per lo sviluppo e per un mondo migliore. Il Comune di Vallefoglia ha emesso un comunicato stampa riguardante l'apertura degli uffici. A seguito dell'accorpamento dei servizi demografici con i servizi sociali e scolastici con sede a Montecchio, in piazza dei quartieri, questi ultimi resteranno aperti oltre al normale orario, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, anche nella giornata di sabato, dalle 10 alle 12.00. L'obiettivo è quello di consentire una più ampia fruibilità del servizio e migliorare l'offerta ai cittadini, soprattutto ai lavoratori, che troverebbero maggiore difficoltà a recarsi negli appositi uffici dal lunedì al venerdì. Si terrà domenica 12 gennaio alle ore 9 il trofeo Stella Show Dance, location dell'evento aggiunto alla non-edizione il Paladionigi di Montecchio. Si terranno competizioni di discipline varie e tappe di circuito per danze, folk e frusta romagnola. Abbiamo fatto visita al Museo della Mezzadria di Pontevecchio di Vallefoglia, una vera chicca del nostro territorio raccontata dalla preziosa testimonianza di colui che ha reso possibile tutto questo, Adriano Campanari, ideatore e attuale gestore del museo. Sentiamolo. Siamo in compagnia di Adriano Campanari, ideatore e gestore dell'attuale progetto del Museo della Mezzadria qui nelle terre di Vallefoglia, precisamente a Pontevecchio. Una chicca, veramente una cosa molto interessante che è stata fatta pochi anni fa, proprio qui nel territorio di Vallefoglia e che Adriano ci spiegherà in alcuni punti. Cioè io ho raccolto l'attrezzatura dei contadini perché volevo costituire qualche cosa di didattico per le scuole. Noi a Pesaro facciamo parte della bassa Vallefoglia e ho raccolto gli strumenti agricoli dalle famiglie mezzadrilli. E ho fatto di tutto perché questa collezione finisse nel comune di Pesolo. Purtroppo ho incontrato delle persone non interessate a questa collezione e ho sparso un po' la voce fino al punto di arrivare al comune di Vallefoglia. Qui il sindaco Cocchielli e l'amministrazione del Vallefoglia ha mostrato una grande sensibilità di fronte a questi attrezzi e ha offerto il Molino di Pontevecchio come contenitore di questa collezione. E quindi abbiamo intitolato l'ex Molino di Pontevecchio museo della mezzadria. Mezzadria perché? Perché la bassa Vallefoglia compreso anche tutto il territorio di Rio Salso e il comune di Vallefoglia era un contratto mezzadrile che interessava i contadini della zona. E quali attrezzi sono contenuti qui in questo museo? Gli attrezzi? Lei deve sapere che gli attrezzi sono dal piccolo, dalla tazzina che si usava in cucina contadina al biroccio. Quindi noi abbiamo circa 1100 pezzi. In continua evoluzione? In continua evoluzione, perché in continua evoluzione effettivamente, perché questa è l'ultima collezione della mezzadria. La mezzadria è terminata negli anni 80 del secolo scorso, quindi praticamente c'è tutto lo sviluppo, anche l'incampo agricolo con la nuova strumentazione che sarà in avvenire. Per chi volesse venire a far visita al museo, quali sono gli orari a disposizione? Il museo attualmente, il comune ha stabilito il martedì e il sabato. Martedì al pomeriggio dalle 15 alle 18, al sabato al mattino dalle 9 alle 12. E quando è stato inaugurato precisamente il museo? È stato inaugurato il 21 dicembre del 2018. Passiamo allo sport. Nel campionato d'eccellenza battuta dal resto per la capolista atletico Gallo Colbordolo, che non incomincia l'anno nel migliore dei modi, perdendo 1-0 in casa del Val di Chienti. Gallo, che si trova comunque ancora in vetta alla classifica, ha due lunghezze dalle inseguitrici Castelfidardo, Porto Dascoli e Forsempronese. Brutto inizio 2020 anche per la Key Sport Azzurra Academy, che nel campionato di prima categoria, in cui si trovava saldamente al comando, ha trovato la sua prima sconfitta stagionale in casa contro Tavernelle. Azzurra che rimane in testa alla classifica a più 4 dalla Fermignanese. Nel girone B della seconda categoria, netto 3-0 del Montecchio in casa di Torre San Marco. Montecchio che ora vede i play-off a 4 lunghezze e i play-out a 5. Passiamo alla pallavolo. Vittoria nella gara amichevole per la Megabat Vallefoglia, che supera per 3-7 a 1 Moncaromoio in trasferta. Un test proficuo che ci ha promesso di sperimentare nuove soluzioni tattiche e di dare spazio alle più giovani, spiega coach Bonafede. Seguirà l'amichevole di Imola e poi il campionato, che riprenderà l'11 gennaio a Castelfranco, in provincia di Pisa. Siamo giunti al termine di questa tredicesima edizione. Ricordiamo a tutti voi telespettatori che potete inviarci segnalazioni alla mail vallefogliacchiocciolarossinitv.it e al numero di telefono anche su WhatsApp 349 054 8062. Per oggi abbiamo finito e vi auguriamo buona giornata. Per oggi abbiamo finito e vi auguriamo buona giornata.